Dramma d'agna nel pomeriggio di ieri, un uomo di 56 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un platano. Chiede vendetta via social e spara a zero contro la giustizia, il 27enne è condannato per uno stupro commesso nel 2015 ai danni di una minorenne. La dinazione a Vigonza, razzia in una villetta, sventata la cassaforte e rubati dei Rolex indagano i carabinieri. Verso il 13 giugno, festa del Santo, in questo 2023 ricorrono i 125 anni del messaggero di Sant'Antonio, il mensile nato per avvicinare il tamaturgo ai fedeli. La nuova questura in Vianelli, dal governo di Via Libera, ulteriori fondi per coprire l'aumento delle materie prime e costi dell'energia in arrivo a 12 milioni di euro. Lavori in quasi 2 mila appartamenti a Ater, grazie al bonus 110, il 60% delle opere tra Padova e Est saranno completate entro fine giugno. Sport e solidarietà, nuova impresa padovana in vista delle Olimpiadi del 2024, obiettivo sostenere la città della speranza e portare il fumo agli atleti vestiti. Delle Nord-Est, buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. L'avete sentito la cronaca in primo piano, ancora una tragedia della strada. Ad Agna ha perso la vita un 56enne. Un impatto violento contro un platano dopo aver perso il controllo della sua auto, Angelo Canato, 56enne, di Agna, ha perso la vita ieri sera mentre stava percorrendo la strada provinciale 3 che attraversa il centro abitato del suo paese. L'uomo, ex titolare di un negozio di arredamento, era da solo a bordo della sua Peugeot. All'improvviso ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato e non è riuscito a rimettersi incareggiata, centrando in pieno un platano a bordo strada. Alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'auto. Nonostante l'arrivo immediato dei medici del 118 e dell'elisoccorso e i numerosi tentativi di rianimazione, purtroppo il 56enne è deceduto sul posto. I carabinieri di Piove di Sacco sono intervenuti per deviare il traffico e per i rilievi dell'incidente. Angelo Canato lascia la moglie e una figlia. Una lunga pagina di cronaca questa mattina è sfuggita al controllo della sorella maggiore e si è gettata in strada proprio mentre stava passando un'auto. Una bambina di 5 anni è rimasta ferita ieri sera mentre si trovava in zona Vigonza, in via Caltana. La bimba è stata curata dal 118 e trasportata in pediatria a Padova. Non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi è riservata. E con la cronaca ci spostiamo a San Giorgio delle Pertiche. Un sorpasso azzardato sarebbe questa la causa della morte di Simone Filippi, il 18enne che si è scontrato con l'auto condotta dallo zio. Avrebbe sorpassato una serie di auto finendo poi contro un veicolo. Sarebbe questa la causa della morte di Simone Filippi, il 18enne di San Giorgio delle Pertiche ispirato nell'azienda ospedaliera di Padova dopo quattro giorni di agonia. Tragica fatalità alla guida di una di queste auto c'era lo zio del 18enne. L'incidente è accaduto giovedì scorso. Dopo l'impatto con il veicolo, il 18enne studente dell'Istituto Severi di Padova è stato sbalzato sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri. Le ferite si erano rivelate da subito gravissime, nonostante il 18enne indossasse il casco di protezione tali da causare la morte dopo quattro giorni di ricovero. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Padova a carico di ignoti. Nel frattempo è stato concesso il nulla osta alla sepoltura dello sfortunato studente. Torniamo ora su un fatto di cronaca. La condanna per violenza sessuale su una quindicene dopo otto anni di procedimento è diventata definitiva. dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione. Ma un 27enne di Loreggia non si arrende e chiede sui social di essere vendicato. Chi mi ama mi vendichi, scritto a chiare lettere su Instagram. Appena ascoltata a Roma la sentenza di rigetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione che lo condannava in modo definitivo a scontare sei anni di carcere per violenza sessuale. Si è sfogato sui social Filippo Roncato, 27 anni, di Loreggia, invitando gli amici a fare giustizia per lui che in tutti questi anni si è proclamato innocente perché la minorenne, a suo dire, sarebbe stata consenziente. I fatti risalgono al 21 agosto 2015. I giovani, all'epoca dei fatti 19enne, Pierre della discoteca a Baita al Lago di Castelfranco, Veneto, incontra una quindicene nel locale con un'amica. Qui lui abusa di lei, mentre un amico del PR, anche lui condannato per violenza privata, tiene ferma l'amica della vittima che vorrebbe correre in suo aiuto. Otto anni e tre gradi di giudizio dopo, la condanna per Roncato diventa definitiva, con pena confermata per il PR in primo e secondo grado. Su Instagram, accanto alle foto di feste e viaggi, da martedì sera compare la sua rancorosa amarezza. Il 27enne accusa la giustizia italiana, parla di un accanimento che dura da quasi dieci anni, un processo palesemente falsato, con inquinamento di prove in ogni sede, aggiungendo, mi vogliono massacrare, mi vogliono privare della mia libertà. Il titolo di quel post scatena immediate reazioni, con numerose approvazioni nascoste dietro i curicini. Per la vittima, adesso 23enne, è di nuovo, gogna sui social, un terribile ritorno al passato per la ragazza, che ripiomba nell'incubo vissuto otto anni fa, come racconta l'avvocato che l'ha seguita. All'inizio era stata sottoposta veramente ad un'agonia mediatica, attraverso i social, quindi aveva solo 15 anni, quindi è stata veramente durissima. Ancora stamattina mi scriveva, avvocato, devo ancora realizzare, non ci posso ancora credere, non ci credo che sia finita e che mi abbiano creduto. Ancora notizie di cronaca, la di Nazione a Vigonza. In una sola ora sono riusciti a scassinare la cassaforte e a fare razzia in una villetta di Vigonza, una banda di professionisti, quella che ha svaliggiato l'abitazione di Via Ottofebbraio nella frazione di Busa. I ladri sono riusciti a rubare alcuni orologi Rolex, gioielli e contanti, un bottino che si aggira attorno a alcune decine di migliaia di euro. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio del 6 giugno, forzando la porta d'ingresso. In pochi minuti hanno messo a soquadro l'abitazione trovando la cassaforte che è stata divelta. Dopo aver compiuto la razzia, sono scappati. I militari dell'arma stanno cercando di capire se dalle telecamere di sorveglianza della zona e dei negozi vicini si possa risalire a qualche targa sospetta che possa far individuare la banda di malviventi. Cambiamo ora argomento. Lo sapete, il 13 giugno è la festa del Santo. In questo 2023 ricorrono tra l'altro i 125 anni del messaggero di Sant'Antonio, ma ci racconta tutto in diretta la nostra Chiara Gagliani. Buongiorno, continuiamo il nostro percorso verso il 13 giugno, festa di Sant'Antonio. Siamo all'interno del messaggero di Sant'Antonio con il direttore del periodico che compie quest'anno 125 anni, quindi ringraziamo padre Massimiliano Patassini. 125 anni di vita, ma una rivista che è sempre giovane seguendo lo spirito di Sant'Antonio. Certo. Allora, davvero una bella storia che stiamo cercando di portare avanti. Iniziata nel 1898, in quel periodo si festeggiavano gli anniversari di Sant'Antonio e i frati hanno pensato proprio di iniziare questa nuova avventura sulla scia, un po' di quello che Sant'Antonio ha fatto nella sua vita, che è stato quello di predicare il Vangelo. E si è voluto cercare di riproporre la voce di Sant'Antonio, parlando anche un po' della nostra Basilica e cercando di sostenere quelle opere di carità nate nel nome proprio del Santo. Ecco, questo è un po' lo spirito iniziale che anche oggi, in modalità diverse, cerchiamo di portare avanti, soprattutto cercando di parlare un po' a tutti, come faceva Sant'Antonio, capace di parlare ai semplici, ai piccoli, ai poveri, ma anche alle persone più altolocate, ai ricchi, anche magari ai tiranni certe volte. Ecco, con questo spirito cerchiamo di portare avanti il nostro lavoro con la collaborazione di tanti. Padre Massimiliano, vorrei vedere la copertina dell'ultimo numero del messaggero di Sant'Antonio. Lei diceva Sant'Antonio, parlava con tutti, ha parlato anche con i pesci. Ecco, abbiamo ripreso proprio questo tema negli 800 anni, proprio un anniversario quest'anno, della predica ai pesci, evento che, ecco, è avvenuto a Rimini proprio 800 anni fa. E Antonio si rivolge ai pesci perché non ascoltato dagli abitanti di Rimini e avviene questa cosa che un po' richiamo anche a quello che lo stesso San Francesco aveva fatto con la predica agli uccelli. Si rivolge a queste creature e i riminesi rimangono colpiti da questo fatto ed iniziano ad ascoltarlo. se vogliamo è questo il vero miracolo, il cambiamento del cuore degli abitanti di Rimini che a quel punto davvero ascoltano la voce di Sant'Antonio e ci sono grandi, importanti conversioni. Questo ci dice che possiamo partire anche da cose piccole per iniziare qualcosa di nuovo, un cambiamento nuovo. Ed è questo un po' il tema poi di questo giugno antoniano che stiamo vivendo anche qui in Basilica. Un'ultima cosa e quali sono adesso le sfide che vede davanti a sé il messaggero di Sant'Antonio che tra l'altro è stato un mezzo di collegamento straordinario nei periodi difficili della pandemia? Beh, allora, chiaramente la sfida è sempre quella di cercare di raggiungere le persone. C'è tanto bisogno da parte dei nostri lettori anche che ci viene comunicato dai tanti devoti anche del Santo o anche semplicemente dall'umanità che ci circonda di punti di riferimento, di qualcuno che dica una parola buona, una parola anche di speranza, che dica una parola che aiuti proprio a vivere in questa realtà, a riconoscere questa realtà, a comprendere, a districarsi un po' anche nella complessità di quello che stiamo vivendo. È quello che cerchiamo di fare con le nostre riviste, è quello che cerchiamo di fare anche attraverso i nuovi mezzi anche di comunicazione. C'è tutto un altro spazio che è quello del web, dei social, che cerchiamo di frequentare. E anche lì ci sono delle interessanti esperienze, degli interessanti incontri che possiamo fare. Ecco, allora ringraziamo davvero padre Massimiliano Patassini, direttore del Messaggero di Sant'Antonio, ringrazio anche Federico Civotto per la collaborazione tecnica e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Chiara Gagliani e al suo ospite. Parliamo ora della nuova questura di Via Anelli, dal governo in Via Libera o ulteriori fondi. Finalmente è arrivata la lettera dal Ministero dell'Interno che conferma l'ulteriore investimento da parte del governo per la città di Padova di 12 milioni per la questura di Padova. La comunicazione da parte del governo dà quindi il via a tutto l'iter per la realizzazione della nuova questura in Via Anelli, un percorso che si era rallentato proprio per attendere questi 12 milioni che portano l'investimento da 50 milioni di euro a 62 milioni di euro. Ora parte la corsa. Io voglio tempi serratissimi, quindi nei prossimi giorni approveremo il documento preliminare che poi ci porterà ad avere le caratteristiche della questura e dentro il 30 giugno voglio che sia pubblicato il bando per la progettazione. Quindi dal 30 giugno in poi concorreranno gli studi di progettazione per iniziare a progettare, disegnare la nuova questura in Via Anelli. Una città che cambia, dice il vice sindaco che ha saputo intercettare molti dei fondi del PNRR. Ricordo che Padova è tra le città che più ha beneficiato e sta beneficiando con oltre mezzo miliardo di euro di investimenti che vengono realizzati non pescando dal bilancio e dalle tasche dei padovani ma dai bilanci dell'Europa e del paese. La nuova questura si inserisce in una riqualificazione di un intero quadrante della città. La questura di Padova in Via Anelli non cancella solo l'idea del Bronx che è stata quella zona mettendo lì un edificio che simboleggia invece la giustizia e la sicurezza ma diventa l'opportunità di una riqualificazione a 360 gradi sia sociale che economica di un quartiere che va dalla Stanga a San Lazzaro a Mortise. In primo piano ora la cronaca giudiziaria. Marino Occhipinti l'ex poliziotto delle stragi della Uno Bianca da anni in carcere a Padova patteggia due anni per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Si è sempre professato innocente ma ha deciso di patteggiare a due anni per chiudere l'ulteriore vicenda processuale che lo vede coinvolto questa volta per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Marino Occhipinti ex componente della banda della Uno Bianca era accusato di aver maltrattato una donna mentre era in regime di libertà condizionale a Padova. La denuncia risale al 2022. La compagna non si è costituita a parte civile non erano state chieste né emesse misure cautelari. Il giudice per le indagini preliminari ha consentito a disporre il minimo della pena con la riduzione di un terzo per il patteggiamento. L'inchiesta per maltrattamenti aveva portato alla revoca della libertà condizionale per Marino Occhipinti l'ex poliziotto condannato all'ergastolo per i delitti commessi con il gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 uccise 23 persone e ne ferì altre 100 tra Bologna Romagna e Marche. Occhipinti si trova in carcere a due palazzi a Padova. E ora facciamo il punto sui cantieri aperti dall'ATER di Padova grazie al 110% lavori in quasi 2000 appartamenti. 90 cantieri aperti quasi 2000 appartamenti interessati sono al lavoro i tecnici di ATER Padova per rispettare la tabella di marcia prevista dal bonus edilizio del 110% un investimento da 150 milioni di euro. Insomma veramente un grande lavoro che arriva dopo un impegno di tutta la struttura e adesso ci sono i tempi da rispettare però stiamo andando bene si spera anche in una proroga che ci potrà dare una mano per continuare a lavorare e continuare anche a vedere se ci sarà una nuova opportunità per intercettare queste risorse che servono per riqualificare i alloggi. Noi ci siamo messi a disposizione anche dei comuni della provincia collaboriamo con il comune di Padova e con il comune di Este quindi oltre i 1300 appartamenti nostri siamo in campo per la ristrutturazione di più di 1000 appartamenti di questi due comuni. Sostituzione di serramenti e caldaie installazione di cappotto e impianti fotovoltaici questi principali interventi che porteranno notevoli benefici agli inquilini. Si stima almeno un 30% di abbattimento di costi delle bollette e questa è una cosa fondamentale nello scorso inverno abbiamo visto quanto abbiano inciso sulla vita delle persone di tutti e il rincaro dei costi delle energie. Abbiamo un primo step che è la fine del mese secondo cui gli interventi realizzati nell'ambito del super bonus devono divenire il 60% dell'esecuzione delle opere. Siamo in linea con questi obiettivi confidiamo su tutti i nostri interventi di riuscire ad arrivare a rispettare questo tipo di scadenza per poi proiettarci alla seconda scadenza che è quella di fine anno termine ultimo entro cui i lavori devono essere completamente ultimati. Interventi a costo zero sia per Ater sia per gli inquilini. E chiudiamo il nostro telegiornale parlando di sport e solidarietà impresa padovana in vista delle Olimpiadi del 2024. Un papà di un atleta che è candidato a una medaglia olimpica ha detto lui si deve impegnare per arrivare a vincere una medaglia olimpica il nostro impegno è quello di partire da casa e andare a Parigi all'inizio eravamo in due e oggi siamo in quattordici ma penso che arriveremo intorno ai 20-25. Padova Parigi in bicicletta per accompagnare idealmente gli atleti padovani alle Olimpiadi del 2024 e per raccogliere fondi per la città della speranza Pa Pa è la nuova avventura nata da un gruppo di genitori in testa Benedetto Fasolo che vogliono tradurre in solidarietà il tifo per gli atleti veneti che si sperano essere molto numerosi alle prossime Olimpiadi è un'impresa è un impegno ma secondo me si affianca anche all'impresa che fanno tutti i giorni bambini e genitori per affrontare la malattia quindi questa grande battaglia è un impegno un impegno grande che vale la vittoria della vita e direi che anche questo viaggio che viene fatto da questi ciclisti vale un po' questa vittoria nasce tutto da un gruppo di amici che vogliono spingere i propri figli alle Olimpiadi di Parigi e c'è questo desiderio di accompagnarli non solo con il tifo ma anche proprio con la sofferenza di fare tanti chilometri quali sono quelli che dividono Padova a Parigi si partirà a luglio del 2024 1320 chilometri tra Italia Austria Svizzera e Francia in 12 tappe con una media di 110 chilometri al giorno toccando passi di montagna capitali e paesaggi suggestivi dell'Europa per arrivare a Parigi molte le glorie dello sport veneto che sostengono questo progetto che serve per aiutare la ricerca della città della speranza è molto simpatico unire nell'anno olimpico Padova a Parigi e insomma 1121 chilometri un anno scherzo va premiato come ha detto l'assessore Diego Bonavina parlandone il più possibile per avere tanti soldini e poter comprare questo strumento preziosissimo questo era l'ultimo servizio da Padova è tutto grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti per averci seguito Grazie.